Nuova condanna per responsabilità civile per quattro superstiti del crollo della casa dello studente nel terremoto del 6 aprile. Si tratta dell'ultima sentenza di condanna a risarcimento d'anni a carico di Regione Abruzzo e Azzo per i quattro ragazzi assistiti dall'avvocato Vagna della Vigna. Si chiude così un ciclo a beneficio degli studenti che alloggiavano nella casa aquilana, miracolosamente salvi quella notte. Ai giovani, confermando quanto era accaduto con altre sentenze, viene riconosciuta la sindrome post-traumatica da stress, innesso causale con la traumatica esperienza vissuta, documentata dalla consulente tecnica d'ufficio, la dottoressa Francipane, che ha prodotto nei sopravvissuti delle menomazioni psichiche. La Regione Ezzo, ha spiegato l'avvocato della Vigna, sono state condannate a risarcire somme di danno biologico permanente che vanno da 180 a 200 mila euro per ciascuno dei quattro studenti. Si tratta di una sentenza molto importante che si inserisce in un filone di processi civili afferenti il crollo della casa dello studente. La vicenda civile è tra origine dal processo penale però per il crollo della casa e dagli atti della procura, grazie alle indagini del procuratore Rossini e del dottor Picuti, che ravvisarono nel crollo dell'edificio, in occasione della scossa delle 3.32, responsabilità umane, come evidenziato dalle consulenze del team di tecnici della procura, confermate nel corso del processo dalla perizia della professoressa Mulas. Il processo penale si è concluso con la condanna della Corte di Cassazione, passata in giudicato, per tre ingegneri e un architetto dipendente della DSU. La della Vigna ha intrapreso questi processi civili anni fa, volte ad accertare la responsabilità di enti, quali la regione Abruzzo, proprietaria del Bene e del Lazio, ente gestore. Entrambi gli enti sono anche responsabili per l'operato dei loro dipendenti o tecnici. La prima sentenza risale al ferragosto del 2018 e riguardò i familiari di Micheloni, uno studente israeliano di medicina. Da allora ci sono state altre sentenze civili di condanna, sia per i familiari di altre vittime che per i sopravvissuti. Tra queste anche per i familiari di Davide Centofanti, nipote di Antonietta Centofanti, fondatrice e presidente del Comitato Vittime della Casa dello Studente. Quest'ultima sentenza è firmata dal giudice Baldovino Desensi. Tutte le precedenti sentenze dei miei assistiti, a concluso il legale, per il crollo della Casa dello Studente sono approdate in corte d'appello e ci sarà udienza di precisazione delle conclusioni per alcune vittime domani 8 marzo.